Vai, prendi questa bombola d'ossigeno Non ci riesci, non è una schiappetta, va a vedere la mia Vai, va un'altra seconda Siamo nelle schiappette Ciao ragazze, eccoci qua in un nuovo video Io sono Karina Docella, mia sorellina Siamo qua per fare un video con tutte le cose che abbiamo comprato da Tiger E mi raccomando dopo che avete visto questo video volate sul canale di Nancy Perché troverete un secondo video sul canale di Nancy Con tutti gli assaggi Assaggi porcellosi di Tiger Roba proprio da vomitare Roba stranissima, buonissima Quindi tutte le cose che abbiamo comprato Quindi snack Andate sul canale di Nancy Vi lasciamo il link nella scheda cliccabile Oppure nel box informazioni Sì Prendi il bel gustone che abbiamo comprato Prima di tutto i palloncini Che ci hanno fregato Non si confiano Ma praticamente sono palloncini bellissimi, tutti colorati Ma non si gonfiano A parte che così hanno una forma anche un po' strana No, sono dei cuoricini, non pensate male No, sembrano strani Però comunque, vabbè, a parte questo Sembrano... eh Cosa importante però Non si gonfiano Cioè, raga, non si gonfiano No, fare la testa con i palloncini Non si gonfiano Cioè, è una cosa tremenda Noi siamo sempre qua O siamo noi che non abbiamo fiato Siamo vecchie Oppure, lo so Unque abbiamo una fregatura Come al solito Vabbè Comunque, continuiamo Allora, questo qua È il sapone delle mani Guardate un po' tutte le cose da Tiger Che voi mi chiedete spesso E magari in tutte le cose La ce l'ho schifo La paraffina Schifo Però, schifo Questo qua Sherry Blossom Abbiamo preso questo sapone per le mani Che c'era in varie profumazioni L'abbiamo preso ciliegia Sì, solo per la profumazione No, però l'inci Non è male Non è male Insomma, è accettabile Anche se comunque È sempre sintetico Però, insomma, non ci sono Quegli ingredienti proprio dannosi Vabbè, insomma Un sapone per le mani Sì, quindi è abbastanza accettabile Come inci Il resto Questo è un pezzo grosso Un pezzo forte È proprio troppo bello Il tappetino Con un cuore troppo bello Shabby È romanticissimo Mi piace tantissimo Devo metterlo praticamente A casa mia All'ingresso Bello Bellissimo E poi Questi sono sempre per la festa Che dobbiamo fare Che sono dei Dei tovaglioli rosa Con tutti i pestoni Con tutti i pestoni sopra Troppo carini Poi abbiamo preso Solo queste cose Facciamo vedere da mangiare Poi vi abbiamo preso Tutte le cose da mangiare Snack Le cose più strane Anche nel canale Invece qua abbiamo preso i pinoli Questi sono buoni Sono buonissimi Sono sani Sono praticamente Molto proteici E molto più buoni Dei pinoli normali Infatti sono tipo Pinoli come se fossero Arrostiti Hanno un sapore Brava Aspettato Aspettato Poi ci sono Andrei Questi li ho comprati a mio padre Sono dei Colori Tipo acquerello Le ho presi a lui Perché lui sapete Che ha la passione Per dipingere Adesso glieli do Sarà come Poi abbiamo comprato Questi Dei pennarelli Evidenziatori Tutti i colori Flu Sono troppo carini Veramente Per quando facciamo I disegni Di miastura No ma anche io Perché tipo Sulla mia agenda Mi piace Evidenziare Tutti i video Che devo fare Ah Questi sono altre cose Buone da mangiare Sono dei semini Di papavero Buoni per l'insalata Che voi sapete Che io li adoro Li metto tantissimo Sulle insalate Oppure tipo Sul salmone Dà un sapore Buonissimo E poi se lo fanno bene Senni di papavero E invece questo È il pepe nero Da macinare Che io adoro Quanto adoro io Il pepe nero In grani È buonissimo Esageri Quando lo metti Ah questo è un altro Perché l'abbiamo preso In due Ah è il pepe di pennarelli Poi abbiamo preso Le forbici Per tagliarci i capelli No non è vero Sucsia Sono forbici Comunque per Per la cucina Sì Sono troppo carine Perché sono fucsia Sono giganti Sì Comunque sono di acciaio Sembrano essere buone Insomma Per lo sapere Dai Stanotte ti taglio i capelli Mi faresti Capace Quando ho preso questi Sono dei contenitorini Allora uno È di plastica E un altro è di vetro Con il tappo Così di alluminio Sono troppo carini Per metterci Le spezie Proprio il pepe Per metterci Sì Ho tipo le spezie Perché poi sono piccole Quindi vanno bene Anche nel cassetto Oppure tipo per esempio Una cremina Certo Una qualsiasi cosa Uno scrub Se fate le ricettine cosmetiche Fatte in casa Oppure le marmellate Le cose Sono molto carini Guarda Sono proprio carini C'erano un sacco di forme Un po' più grosse Sì è vero Infatti io le volevo prendere A che lei mi ha fermato E poi questo è mancabile Un'agendina con i qua Tutti colorati È bellissimo questo Praticamente è un tipo un blocco notes C'è anche le righe Tutti qua sopra È troppo carino Perché questo me lo devo mettere in borsetta E mi devo scrivere tutte le mie Già ho scritto alcune cose segrete Non puoi leggere Scrivete Invece di scrivere le poesie Scrivi delle cose rotte Sì scrivo delle cose Praticamente Le messaggi Sì è eccitante No veramente Scrivo delle mie frasi Il riferimento alla vita Le persone Così No la caura No Dio che se mi affacca No Ecco Voi pensate Frasi poetiche Invece no Le stemmie Quindi questo è tutto ragazzi Adesso volate sul canale di Nancy A vedere Che panciatata ci facciamo Con gli snack porcellosi Che mangeremo Solo per voi La scuola Sì faremo il fatto che finisce Lasciate tanti like Vi vogliamo tanto bene Ma un bacio grande Ciao Ciao Ciao